Certo, con me è sfondata una porta aperta per quanto riguarda il fumo, perché non avendo mai fumato in vita mia, per me potrebbero mettere le sigarette a 15 euro al pacchetto e magari dare la differenza in mano agli imprenditori per far ripartire l'economia. Se mi è permesso, volevo fare una piccola precisazione su quanto detto prima dall'onorevole del PD, perché mi sembra che ultimamente si stia cercando di colpevolizzare le persone che vivono, perché si tratta di vivere, quindi che si recano nei centri città, in realtà anche a me danno molto fastidio le immagini di affollamenti e quant'altro, però bisogna ricordare che se la gente va in giro per negozi è perché è permesso. Voglio ricordare come il governo anzi abbia incentivato il fatto che la gente esca e vada a spendere i soldi, sicuramente per un discorso legato all'economia, ma ricordiamo che sono stati loro a fare il cashback, a fare la lotteria degli scontrini, quindi è impensabile dare uno strumento in mano ai cittadini e dopo se lo utilizzano dire no avete sbagliato perché vi siete recati in troppi, perché lì, sapete, la limitazione della libertà è sempre un tasto molto dolente, quindi a me viene sempre da dire che chi è causa del suo mal pianga se stesso. Mentre volevo fare un'ulteriore precisazione per quanto riguarda i giovani, perché molto spesso noi cerchiamo di colpevolizzare sempre i giovani dando la colpa a comportamenti scellerati e ritenendogli, diciamo, la parte forte della società che va a casa magari dei nonni, infette i nonni, i nonni muoiono. Beh, se si ricorda, avvocato, quest'estate la colpa era dei giovani nella movida, cioè sembrava che il coronavirus fosse colpa dei giovani che bevevano uno spritz a 40 gradi all'ombra. In realtà andrei anche un po' controcorrente perché in realtà secondo me i giovani sono quelli che hanno patito di più la situazione attuale perché gli è stata tolta tutta la parte gioiosa della vita, la scuola, perché comunque al di là dell'aspetto didattico c'è un aspetto sociale, gli è stato tolto lo sport, nessuno parla dello sport, nessuno parla della società dilettantistica, io nonostante la mia venerata età sono ancora sportivo, gioco ancora a calcio, ma c'è un mondo che sta patendo in maniera incredibile il Covid, quindi è ovvio che c'è la salute, c'è l'economia, che sono aspetti sicuramente preordinati rispetto ad altre, ma noi rischiamo di perdere migliaia e migliaia di società dilettantive e dilettantistiche sportive che difficilmente il prossimo anno riusciranno ad aprire, e quindi i giovani, oltre ad aver perso la scuola, oltre ad aver perso tutte le attività sportive, oltre ad aver perso la libertà, perché noi magari che siamo un po' più adulti diciamo ok, stiamo a casa, fuori ci siamo sempre andati, ma un giovane nel fior fior dell'età patisce questo momento, e secondo me sono stati anche fin troppo bravi a rispettare le regole. Dopo è ovvio che le scene, come diceva lei poco fa, dottore, di Movida, dove c'erano gli aperitivi, con le mascherine ovviamente sul mento perché dovevano bere, ammassati, quelli sono gesti responsabili, ma per i gesti responsabili non c'è un'età, lo fa il ragazzino di 16 anni, come lo fa la signora che ha incontrato la collega con la mascherina perché deve fumare, quindi ritengo che non ci sia età.